Questo è uno spot pubblicitario, un meraviglia, ma chi è passato dietro? Vabbè, allora, teatro Diana, dal 16 al 20, Sud e South, band! Pazzesco, è bellissimo, è uno spettacolo scintillante, canzoni, risate, cibo perché prepara un aperitivo prima di entrare in tavola, ma vuoi alzare un po' sta camera che sto meglio? Ecco così, ok, facciamo un aperitivo prima di entrare, ma chi è passato dietro? Vabbè ragazzi, ma come si fa uno spot così? Diana!